Mi chiamo Laura Macro, frequento l'Istituto Guarini a Modena e oggi con la mia classe ho avuto la possibilità di venire in questo quartiere chiamato Ecovillaggio, che è situato a Montale, dove ho avuto la possibilità di fare un percorso da saggista in cui in futuro tornerò. Praticamente questo Ecovillaggio oggi ci ha insegnato e comunque ci ha fatto scoprire che per avere delle abitazioni è molto importante anche il verde, i colori e questo percorso mi ha aiutato anche molto per avere delle formazioni e delle conoscenze trasversali ed è molto utile per i giovani perché comunque vengono direttamente inoltrati sul mondo del lavoro. Concordo pienamente con tutto quello che ha detto la mia compagna e anche perché questo posto è davvero molto bello, rilassante e vi consiglio appunto anche di venire a visitarlo.